Qualcuno mi ha chiesto perché io ho portato la croce al contrario. È semplice, su Gesù l'addossarono, io invece l'ho assunta. Vedete, se io questa croce la carico io, la metto così, per metterla nell'altro lato dovevo fare così. Così la misero addosso a Gesù e dovette andare avanti con la croce davanti che anche gli nascondeva la vista.